Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tre gli argomenti che affrontiamo in questo nostro incontro. In primis, subito in apertura, parliamo del bilancio 2023-2025, la seconda variazione che è stata approvata a maggioranza. Poi si parla invece dell'apprezzamento che è stato espresso dal Consiglio per le attività del 2022 del garante dei detenuti e poi l'ok dell'aula al bilancio consultivo del Corecom. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la seconda variazione di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, gli interventi normativi collegati l'integrazione alla nota di aggiornamento al DEF del 2023. Gli atti passano a maggioranza con il sì di Italia Viva e Partito Democratico, con il voto contrario dei gruppi di opposizione presenti al voto, ovvero Lega Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto Italia domani. Una variazione di bilancio che si inserisce in un contesto di programmazione strategica della regione per dare risposte soprattutto a due temi. Il tema delle bonifiche sia per quanto riguarda l'anticipazione dei risorse che la regione deve mettere per provvedere, altrimenti le bonifiche vanno troppo a rilento se solo con risorse di chi è stato responsabile di quegli atti a partire dal Chevo e conseguentemente la regione emette 10 milioni circa per poter procedere a bonificare, salvo poi rivalersi su chi è responsabile e poi sull'area di massa perché a Carrara massa vi sono le necessità di bonifiche che possono consentire nuovi interventi industriali. Una manovra che comporta per l'annualità in corso un aumento di risorse di quasi 40 milioni di euro e che per quanto riguarda la spesa in conto capitale vanno soprattutto ad incidere su due interventi importanti. Da una parte 15 milioni di euro sono quelli che vengono destinati dalla regione toscana per l'esercizio in via sostitutiva rispetto ai responsabili dell'intervento che deve essere realizzato sulla strada regionale 429, quella interessata dall'inchiesta del Chevo. Quindi inizia un'importante attività di bonifica grazie a questo imponente stanziamento di risorse da parte della regione così come vengono rimodulate le risorse per 12 milioni di euro che sono quelle relative alla bonifica dell'area SIN-SIR della provincia di Massa Carrara per consentire l'indizione della gara d'appalto integrato da parte di Sogesib. Dall'altra parte però sul fronte della spesa corrente ci sono tutta una serie di interventi importanti nel settore della cultura che vanno dalla valorizzazione della rete museale a quella delle reti documentarie fino ad arrivare anche a interventi più puntuali come ad esempio i due milioni che vengono destinati al teatro della Pergola o il milione e mezzo che viene destinato al teatro Manzoni di Pistoia. Ci sono poi tutta una serie di interventi puntuali che riguardano la rete viaria ad esempio la strada provinciale 4 nella provincia di Grosseto e tutta una serie di misure che vanno a sostegno degli enti locali quindi in particolar modo dei comuni per la realizzazione o il completamento di valori collegati a palestre, a scuole o ancora luoghi della cultura. Italia Viva sostiene questa manovra di bilancio perché rientra nelle linee guida che ci siamo dati rispetto al bilancio 2023, non ci sono aumenti di tasse, ci sono maggiori risorse invece soprattutto per gli impianti sportivi, per lo sviluppo, per il sociale e per la sanità e soprattutto molti sostegni a favore di vari comuni della Toscana rispetto a degli interventi che da più volte avevamo sollecitato quindi una variazione di bilancio positiva che trova il nostro voto favorevole e un equilibrio finanziario che si consolida in un anno che non era scontato le difficoltà a inizio anno erano notevole, tutti si ricorderanno la difficoltà nel costruire il bilancio di previsione, il tempo ci sta dando ragione rispetto al fatto che non serviva un incremento delle tasse ma che si potevano gestire in equilibrio i conti della finanza regionale su questo abbiamo approvato e sostenuto anche il DEFRE e questo è un atto importante che precederà nelle prossime settimane anche la discussione in merito al piano regionale di sviluppo Allora questa era presentata come una variazione di bilancio di poca valenza, piccola in realtà non sposta grandi patrimoni, però ci sono due criticità enormi a mio modo di vedere che è la prima, il fatto che l'attrazione di nuovi fondi di investimento in regione toscana è un qualcosa che non è preso in considerazione da questa giunta nel documento economico e finanziario del 2023 all'attrazione di fondi di investimento in toscana si dedica a malapena una pagina e mezzo e questo arriva in controtendenza con i dati che in questi giorni ci dicono, dati da Banca Italia, non da Fratelli Italia, ci mancherebbe altro ci dicono che la regione toscana è la regione che a fronte di un'Italia che torna a crescere che torna competitiva, che è il paese che più cresce in Europa la Toscana è la regione italiana che cresce meno è l'unica regione italiana che non ha ancora colmato i quattro punti di PIL persi con la pandemia tutte le altre regioni sono tornate in pari rispetto al 2019 la Toscana è l'unica regione attualmente in regressione attrarre nuovi fondi di investimento in Toscana è un qualcosa di fondamentale documento economico e finanziario di questa giunta, una pagina e mezzo dedicata turismo e commercio, non c'è una parola una spesa per il turismo congressuale nei giorni in cui uno degli enti fieristici principali della Toscana, Firenze Fiera partecipato alla regione toscana finisce su tutte le prime pagine dei giornali con un buco di bilancio da 26 milioni, con qualcuno che dice che è un ente ormai tecnicamente morto, tecnicamente fallito, con i soci che si rifiutano di mettere nuovo capitale in azienda, la regione toscana non spende una parola sul turismo congressuale da ex presidente della commissione di inchiesta sulla criminalità organizzata e appunto il CHEU che finalmente è arrivato una variazione di bilancio da 15 milioni che andrà appunto perlomeno a tutelare la salute ambientale e la salute e l'ambiente di alcuni territori che sono quelli della 429 e dei due siti di proprietà della ditta Le Rose, quindi almeno su quello sembrerebbe iniziare un percorso di piano di caratterizzazione di opere di bonifica che noi chiedevamo da circa un anno e mezzo. Ci siamo arrivati sicuramente con un ritardo però comunque ci siamo arrivati con questa variazione di bilancio e è comunque una soddisfazione dopo averlo chiesto e richiesto da ormai tantissimo tempo purtroppo così non è per tutte quelle aree convolte nell'inchiesta CHEU invece che riguardano i comuni su cui ancora si sosseguono ricorsi al TAR e non possiamo compensare che comuni anche molto piccoli che sono stati coinvolti in questa inchiesta abbiano delle risorse così importanti per poter bonificare quelle aree. È una variazione di bilancio che non sposta lo schema a cui siamo abituati al mare da due anni e mezzo, uno schema che vede interventi totalmente disomogenei, uno schema che interviene a sostenere per la gran parte anche investimenti sugli enti locali, cosa che non contestiamo tanto nel merito perché sappiamo bene le difficoltà dei comuni soprattutto di questi tempi e naturalmente questo pone anche un interrogativo su come strategicamente si vogliono sostenere i comuni in modo globale e completo perché ciò che emerge invece da questo tipo di impostazione su questi atti è che sostanzialmente ci sia una sostanziale disorganicità anche nel sostegno alle amministrazioni comunali. Ne abbiamo avuto un esempio oggi su due interventi in particolare, non mi spiego ancora come mai non si sia stato in grado di trovare delle risorse per un asilo nido che nel piccolissimo comune di Londra pur parlando di aree interne di Toscana diffusa che è un asilo nido al quale mancano circa 200 mila euro per essere messo a norma sull'antisismica. Così come non mi spiego come su un'opera importante come quello che è il secondo ponte sul Resco nella zona del comune di Reggello non si sia in grado, non si sia voluto in qualche modo mettere a disposizione delle risorse ulteriori per sbloccare quel progetto. Il Consiglio regionale esprime apprezzamento per l'attività svolta nel 2022 dalla garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, il lavoro appunto del dottor Giuseppe Fanfani. L'aula approva a maggioranza la risoluzione presentata su proposta della Commissione Affari Istituzionali e poi approvata, anzi pardon, illustrata in aula dal suo presidente Giacomo Bugliani con 26 voti a favore, quello del Partito Democratico Italia Viva e Movimento 5 Stelle e 12 voti contrari, quelli di Lega e Fratelli d'Italia. Il Consiglio regionale ha approvato la relazione annuale del garante per i detenuti attraverso una risoluzione che esprime apprezzamento per l'operato del garante svolto appunto nello scorso anno. Si tratta di una relazione che dà conto di molti aspetti della popolazione carceraria a cominciare dai numeri delle carceri toscane, dal decremento di popolazione carceraria in Toscana a fronte di un aumento a livello nazionale, c'è una disamina dei singoli istituti penitenziari, si registra un significativo aumento del ricorso dell'istituto della messa alla prova e si pone l'attenzione ad alcuni aspetti come ad esempio la tutela della salute negli istituti di pena della nostra regione, il tema delle REMS di Volterra e di Empoli o ancora delle carceri minorili di Pontremoli e di Firenze. Una disamina quella del garante dei detenuti che tiene conto anche di una serie di impegni che il garante stesso ha assunto come ad esempio lo sviluppo di un convegno e di una ricerca dedicata al lavoro nelle carceri e soprattutto anche al lavoro delle persone che sono in uscita dal carcere, proseguendo anche quella serie di incontri che il garante sta svolgendo insieme alla prima commissione presso tutti gli istituti carcerari toscani. L'ultimo che è stato visitato dalla prima commissione assieme al garante è stato il carcere di Volterra. Proprio per questo il Consiglio regionale ha deciso di esprimere parere favorevole alla relazione annuale del garante auspicando anche che si vada gradualmente ad una riforma della legge istitutiva del garante secondo quelle linee guida che sono state già recepite da altri consigli regionali italiani così come elaborate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel 2019. La Toscana può fare molto una qualità di una società si vive e si vede anche dalla qualità delle proprie carceri e come questo noi ci impegniamo sosteniamo l'attività della funzione di garanzia che pone diciamo il Consiglio regionale al centro di una di quelle attività similari che vengono poi svolte con il difensore civico abbiamo chiesto che ci fosse maggiore integrazione anche con le funzioni svolte dal difensore civico perché siamo coloro che hanno proposto una revisione degli organismi di garanzia che pongono il difensore civico anche al di sopra di ogni altra funzione di garanzia e anche come attività di coordinamento di quella dei garanti dei detenuti ma anche quella dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo preoccupati perché malgrado vi sia meno sovraffollamento chiamiamolo formale le condizioni nelle celle per i detenuti sono spesa al limite della dignità umana. Abbiamo letto pagine che ci hanno inquietato e abbiamo anche vissuto da vicino l'esperienza del carcere di Sollicciano e poi due percentuali su tutte. La prima indubbiamente è quella della popolazione carceraria straniera in Toscana il 46,5 rispetto al 31 della media nazionale e ci domandiamo se tutto ciò non sia frutto anche di una cultura relativista buonista, ideologista della sinistra e la popolazione carceraria con problemi di droga il 25%. Vediamo che il garante Fanfani lascia alla discussione politica il tema sulle droghe, è un tema che comunque si dovrà affrontare. Il 60% dei detenuti nelle carceri di Toscana sono detenuti stranieri. Su questo finalmente c'è un governo a livello nazionale che si sta impegnando perché i detenuti stranieri possano scontare la loro pena nel proprio stato d'origine e questo, attenzione, va nell'interesse nazionale perché il 60% costa tantissimi soldi e fa sì che ci debbano essere ulteriori strutture che in questo momento non abbiamo, ma va anche nell'interesse del detenuto stesso che magari se ne avesse la possibilità deciderebbe di scontare quella pena all'estero presso la propria nazione perché magari più vicino alle proprie affette, alla propria famiglia, alle proprie persone care. Su questo finalmente c'è un governo nazionale, il governo Meloni, soprattutto con l'attività del sottosegretario Andrea Del Mastro che si sta impugnando fortemente ma il tema non è a quanto pare nell'agenda del garante toscano che non tratta o tratta in maniera per noi insufficiente il tema dei detenuti di origine straniera che ripeto in Toscana sono il 60%. E alla vigilia della presentazione del nuovo comitato regionale per le comunicazioni, il Corecom della Toscana, l'aula di Palazzo del Pegaso ha detto sì a quella che era relazione consuntiva sulle attività svolte nel 2022 registrando 24 voti a favore e 6 astenuti. Abbiamo approvato in aula la proposta di risoluzione che apprezza e approva il piano delle attività, il resoconto delle attività 2022 del Corecom e devo dire che si conferma essere un organismo di grandissima rilevanza non soltanto per le attività che gli sono delegate dal governo ma anche e soprattutto per le attività proprie di promozione di una comunicazione sana e di un rapporto con i mezzi di comunicazione e di informazione maturo e critico soprattutto per i toscani e le toscane più giovani. Il progetto del patentino digitale è un progetto di punta nell'ambito dell'attenzione per i minori e la commissione ha chiesto e chiede ancora che venga esteso a tutte le scuole toscane e a tutti i ragazzi e le ragazze toscane come opportunità di entrare nel mondo dell'uso dei social e dei mezzi di informazione in modo più maturo con più strumenti di comprensione. Noi ci siamo astenuti perché sì il Corecom sta lavorando abbastanza bene per quanto riguarda i minori col discorso del patentino digitale però per ora sono poche le scuole in cui è stato proposto noi vorremmo che fosse proposto in tutte le scuole della Toscana e inoltre perché sette mesi ci sono sembrati veramente troppi per aspettare la nomina del nuovo CdA e del Presidente. Qua c'è la corsa folle alle nomine, c'è la corsa folle a distribuire poltrone e incarichi nei vari consigli di amministrazione poi una volta distribuite le poltrone abbiamo fatto, finito, chiuso. Poi poco importa se l'ente nominato parte, che risultati porta, che obiettivi c'entra. Il Corecom è l'esempio lampante, abbiamo nominato il nuovo vertice del Corecom mi sembra a novembre dell'anno scorso, siamo a giugno, il Presidente, l'abbiamo letto sui giornali perché ancora non sappiamo se si è insediato o meno, scelto da una settimana circa. Quindi questo dimostra cosa? Dimostra che questa giunta è tranquillamente in grado di tenere sette mesi fermo un ente come il Corecom. E la prossima settimana, il prossimo appuntamento, ripartiremo proprio da qui, dalla presentazione del nuovo Presidente e dei quattro componenti del Corecom. Quindi per questo nostro incontro è tutto, vi ricordo per le delucidazioni e le informazioni c'è il sito a vostra disposizione www.inconsiglio.it. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qua, dentro il Consiglio. Grazie a tutti.